La scolaresca di apine di Isabel Boscolo Ci sono sette apine abbastanza biricchine che non sempre hanno tanta voglia di studiare ma grazie alla pazienza della maestra riusciranno a portare a termine una grande impresa C'è Violetta che vuol diventare una ballerina Iris che canta e scrive poesie Rosetta che vuole diventare pasticcera e cucina deliziosi dolcetti di miele Poi c'è Malva che studia i fiori per curare tutte le malattie delle sue amiche api e studia per diventare medico Le piace la propoli, una resina che raccoglie con le sue amiche apine sulle piante molto spesso sulle gemme dei pioppi La pila Malva usa la propoli dappertutto L'ha utilizzata per costruirsi una meravigliosa casetta per stuccare le fessure delle sue finestre e la utilizza tutti i giorni come agente sanificante da quando c'è il coronavirus Malva sa che la propoli ha numerose e ben dimostrate proprietà come farmaco antibatterico, antivirale, antifugino e antiossidante per questo continua a studiarne le proprietà e i benefici Azzurra invece è l'apina pittrice che disegna arcobaleni ovunque si appoggi e colora con i suoi amati pennelli che si porta sempre dietro tutti i fiori che incontra Le apine vivono in un posto triste perché non ci sono frutti e non si sente la musica del ronzio degli insetti e gli uccellini non fanno lì i nidi perché non ci sono frutti e insetti i fiori sono senza colori perché non hanno nessuno da attrarre anche gli uomini sono diventati grigi e frettolosi perché nessuno coltiva più i fiori e i dolci frutti né il vino e l'olio nessuno sa più fare il miele quindi gli abitanti lavorano chiusi nelle fabbriche tutto il giorno e non vedono neppure più la luce del sole questi uomini che hanno sempre la tosse ma non c'è la propoli mangiano soltanto cibo confezionato e non conoscono più il delizioso dolce sapore del miele e della frutta un bambino si ammala e ha sempre la tosse il suo babbo e la sua mamma vanno in cerca di un vecchio saggio guffo che gli dice andate a cercare le api nel bosco loro non capiscono ma cosa possono fare le api per noi? impollinare danzando miele per la pasticceria per cos'altro sono importanti le api? capitolo 1 incontro con le api un giorno le api sentendo un rumore si nascondono dietro agli alberi poi i genitori di Mirko si avvicinano la maestra prende coraggio e chiede chi siete? loro si presentano e chiedono aiuto per Mirko che ha una brutta tosse l'ape maestra li rassicura una nostra sorella dottoressa vi potrà aiutare così ordina a Malva di andare a cercare i fiori per il miele le altre api suggeriscono ai genitori di trovare dei semi da piantare poi incarica Azzurra, l'ape pittrice, di dipingere i fiori con i colori più belli Azzurra felice inizia a colorare capitolo 2 le sette apine all'opera mentre Azzurra tutta felice per il compito assegnatale dalla maestra dipinge i fiori senza colori all'improvviso sente un ronzio familiare ecco arrivare Campanula e Marghisole le due apine che erano partite per un lungo viaggio in cerca di fiori e polline Malva e le altre quattro apine le accolgono felicissime e le raccontano della brutta tosse di Mirko e della loro impresa per aiutarlo le sette apine si mettono all'opera ma prima cantano la filastrocca che la maestra ha insegnato loro siamo sette apine tanto carine e un po' biricchine se propoli e miele noi ti doniamo felici per tutto noi siamo capitolo 3 la festa nel bosco il bosco è trisse grigio e le sette api decidono di rallagrarlo organizzando una grande festa invitano i simpatici amici del bosco e organizzano tante cose divertenti la pina rosetta prepara vicino al lago blu il tavolo con tante decorazioni e deliziosi dolcetti di miele violetta e iris si occupano della musica, dei canti e dei balletti la pina azzurra decide di dipingere per la festa i fiori, gli alveari e il bosco grigio c'è aria di cambiamento e forse con il colore si potrà aiutare qualcuno la festa riesce benissimo e tutti ridono, giocano, scherzano e si divertono con i colori tutto è più allegro che idea fantastica hanno avuto le apine capitolo 4 sorprese in arrivo Cappamolo e Marghisore alla fine della festa fanno una sorpresa per ringraziare dell'accoglienza regalano una lettera a tutte le apine e ai genitori di Mirko presenti alla festa con tutte le ricette di cibi deliziosi ormai dimenticati a un tratto arrivano un orso per mangiare il miele e un lupo per mangiare dolci tutti fuggono e le apine si nascondono dietro all'alveare ma Mirko ormai guarito dalla tosse grazie alla propoli si mette ad urlare con la sua voce forte e squillante il lupo e l'orso spaventati scappano quanti amici riescono a farsi le api grazie alla loro generosità e al loro spirito di collaborazione capitolo 5 la fabbrica di propoli Mirko ormai guarito vuole con le sue amiche api aiutare tutti gli altri abitanti a guarire dalla brutta tosse decide così insieme a Malva e alle altre di aprire un'azienda dove produrre barattoli di propoli tutta la scolaresca delle apine si mette all'opera e vola sulle germe degli altissimi pioppi alla ricerca della propoli la maestra e Mirko sono felici finalmente le apine con tutta la propoli raccolta potranno guarire tutti gli abitanti dalla tosse capitolo 6 una bruttissima sorpresa le apine si impegnavano tanto ma com'era difficile quanto lavoro e che fatica lavoravano fino a tarda notte e ricominciavano quando nasceva il sole l'intero giorno in giro a raccogliere nettare e polline per il benessere di tutti gli esseri viventi ma farlo era importante e necessario insieme a loro nel lungo viaggio c'erano anche i fuchi ma solo per accompagnarle perché su di loro non si poteva contare per fare nulla la strada era lunga e lo sciame si fermava solo quando trovava prati verdi ricchi di fiori succulenti pieni del cibo miracoloso una notte al loro rientro le api ebbero una bruttissima sorpresa l'alveare era stato saccheggiato e distrutto che incubo che paura chi mai poteva essere stato? sicuramente qualcuno che non ama la natura in fondo ad una delle cellette l'ape regina disperata e stanca cercava soccorso per le sue piccole larve senza l'aiuto di tutte le api non sarebbero state capaci di vivere le api allora diventarono molto tristi perché capirono di aver sbagliato a lasciare da sola l'ape regina la loro mamma non poteva essere trascurata altrimenti tutto il mondo ne avrebbe sofferto capitolo settimo il trionfo della natura decisero per questo di fare una riunione generale per organizzare la giornata divisero così i lavori in tre gruppi in questo modo ogni apina poteva scegliere a seconda dei propri interessi in cosa impegnarsi lavorare e fare quello che più interessava avrebbe reso la loro vita migliore e piacevole un gruppo con violetta e iris si sarebbe fermato per far compagnia alla mamma rallegrandola con canti e balli un altro gruppo con azzurra si sarebbe impegnato a colorare meravigliosi quadri nella natura il terzo gruppo capitanato da malva si sarebbe occupato di riempire la dispensa di propoli ed ecco che già dopo alcuni giorni il bosco e i prati rifiorivano di mille colori e canti si sentivano i cinguettì degli uccellini il canto delle apine le risate dei leprotti che giocavano e si rincorrevano gli scoiattoli saltellare da un ramo all'altro come piccoli bambi che sgambettavano controllati dalle mamme e non mancava il vecchio gufo brontolone che sorrideva di nascosto gli uomini hanno così capito che senza le api il mondo sarebbe stato grigio e forse addirittura morto e per ringraziarle dedicarono loro una poesia grazie apine perché ci date la vita la nostra riconoscenza per voi sarà infinita quando vi vedremo adagiate sui fiori anche il nostro cuore si riempirà di mille colori capitolo ottavo salviamo le api Mirko e i suoi compagni una volta tornati a scuola decisero di dimostrare che non bisogna avere paura del pungiglione delle api bisogna invece apprezzarne il loro grande lavoro essenziale per la riproduzione delle piante e degli alberi di tutto il mondo la sopravvivenza delle api impollinatrici oggi è a rischio grida a gran voce neanche possiamo immaginare cosa succederebbe se non ci fossero bisogna proteggere le povere colonie e come? chiedono alcuni compagni curiosi combattere i virus, eliminare i pesticidi adottare un'agricoltura naturale limitare le onde dei cellulari e dei tablet perché disorientano e fanno ammalare le preziose bestioline poverine! gridano i compagni di Mirko andiamo subito a trovarle nel bosco per coccolarle e ringraziarle andiamo presto! le apine scorgono i bambini e ne comprendono le buone intenzioni gli vanno incontro portando tanta buona propoli come dono insieme decidono di dare vita ad un progetto insieme! Grazie a tutti. Grazie a tutti.